buongiorno buongiorno a tutti voi sono le otte e trenta proprio come sul dirsi spaccate di mercoledì 2 novembre 2016 e oggi è una giornata come sapete dedicata alla commemorazione dei punti da poche ore si sono conclusi comics 2016 no mi viene da sorridere un po da ridere perché insomma cinque giorni di comics tempo splendido finiscono i comics con ricomincia a piovere vabbè saranno felici non tanto quelli che stamani si spostano sul lucca dove mi dicono a quest'ora ci sono discrete cose quanto gli organizzatori di lucca comics game games 2016 ricordo che il prossimo anno hanno già annunciato genovese 1 5 primo 5 novembre vado a presentarvi l'ospite di questa puntata ottava settimana di buongiorno con noi è tornato a trovarci l'amico collega insomma lo conosciamo ormai da tanti anni feliciano pechelli buongiorno feliciano buongiorno a tutti voi e grazie di essere con noi allora il motivo per cui feliciano è qui feliciano giornalista ci troviamo sempre anche alle partite della lucchese ma soprattutto come prima occupazione consulente mi dicevi della della sicurezza sui luoghi di lavoro sì sì lavoro in una società che si chiama tecnico ambiente che ha sede sia qui a casa sia qui a luca che a castelnuovo e ci occupiamo di consulenza e formazione su sulla sicurezza sui luoghi di lavoro che ce n'è bisogno mi sembra ma porca miseria che è una cosa che poi finché non succede mai nulla siamo tutti siamo tutti tranquilli un po anche superficiale già vabbè ma tanto cosa deve succedere poi magari al primo allora a volte basta poco parliamone perché comunque tu parliamone un altro motivo però sì sì no parliamone perché poi anche statisticamente la maggior parte degli infortuni sui luoghi di lavoro avviene di lunedì di venerdì e poi nel mese di gennaio e di luglio e c'è un motivo la stanchezza oppure il ritorno dopo un weekend di la disattenzione la deconcentrazione sono lunedì immagino uno rientra e insomma vabbè il venerdì è quando magari devi fare il fine settimana di sole nei lavori normali è il nostro non che non sia un lavoro il nostro è già diverso perché noi ci trovate qui a sabato la domenica a natale a pasqua a ferragosto quindi per noi è un po' diverso ma diciamo nell'orario tipo del lavoratore tradizionale che sia in un'industria che sia in un pubblico impiego negli uffici la disattenzione la mancanza di rispetto di tante piccole prudenze sono alla base di tanti infortuni spesso anche gravi questo hai fatto bene a ricordarlo senti tu stamani feliciano invece sei qui perché lo facciamo già vedere insomma ce l'avevi detto tornerò a trovarvi ci avevi avevi minacciato è stato di parola sei tornato perché è uscito da pochissimo no da pochi giorni sì sì da scorsa settimana scorsa settimana media valle garfagnana tra fascismo guerra e resistenza guida i luoghi della memoria in provincia di lucca 2 questo 2 per cosa sta ci lo vuoi subito spiegare sì è un progetto portato avanti dall istituto storico della resistenza dobbiamo subito fare saluti stamani perché dovrà essere qui con noi anche il curatore gianluca fulvetti ma ci starà seguendo e a letto ancora con questa allora si sanno motivi di questa febbre sì sì alla febbre a 38 e vomito secondo me è derivante dalla interite sì perché interiste secondo me è una conseguenza contagiosa perché no per me no mi potrebbe occupare mi potrebbe occupare quindi sai va bene salutiamo gianluca fulvetti a parte gli scherzi è il curatore è il curatore del progetto è il curatore del progetto che si dipana in tre volumi tre guide la prima quella sulla versilia è già stata presentata dagli amici frederico bertozzi e poi scritta con andrea ventura e jonathan frederico bertozzi è stato qui da noi circa un mese un mese e mezzo infatti poi la seconda guida è questa che è dedicata alla media valle da borgamo da colonia ora di pescaglia in su fino a campagliana cogno piazza al serchio e la terza guida uscirà alla fine del mese sarà dedicata invece al comune di lucca e alla piana senti dammi questo concetto geografico ce l'abbiamo una cartina della 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 garfagnana della media valle della provincia di lucca pucci perché pucci in regia è sinonimo di sicurezza no a proposito di sicurezza me la fai vedere perché volevo chiedere a feliciano quando dici media valle mi dici la zona di da pescaglia pescaglia ma possiamo inquadrarla tanto per essere un po precisi e far capire anche a chi ci segue da casa dalla rotonda di val d'ottavo in su e media valle allora come idea di sì diciamo così diciamo diciamo a diecimo allora noi siamo partiti ora poi chilometro più chilometro più chilometro meno noi siamo partiti da come primo luogo abbiamo risalito la la lodovica abbiamo solo partito da colonia era di pescaglia perché è proprio una zona in cui è avvenuto un fatto interessante colombia di pescaglia dove c'è la seduta la sede del museo del castagno dell'amico angelo frati che saluta che saluta perché tra l'altro ho anche attinto una foto del libro dal dal sito del museo del castagno e poi ci spostiamo su burgo a mozzano bagno di lucca lucignana fucchia sommo colonia tutta la parte dell'alpe di sant'antonio e poi sulla garfagnana castelnuovo ponte cosi piazza al serchio campagliana san pellegrino in alpe ecco e di tutti questi luoghi ho raccontato un po le vicende che si svolgono in un diciamo così in un percorso ideale che partendo appunto dalla media valle arriva su fino all'alta garfagnana è raccontato i luoghi della memoria attingendo anche a persone perché chiaro più passa il tempo e e poi sarà sempre più difficile trovare testimonianze dirette come come hai sviluppato il tuo lavoro allora io qui sono partito appunto dai luoghi perché questa è una guida al metà tra lo storico e il turistico ecco tanto scusa vediamo che pucci come sempre molto attento ci fa vedere questa cartina allora può essere questa grandi linee sì sì più o meno questa più o meno è questa la zona questo è il territorio sì sì questo è il territorio me lo fai vedere anche a me sul monitor di servizio perché sennò di là non ecco questi sono suddiviso nei vari comuni no sì sì sono che poi sono i comuni della che appartengono all'unione dei comuni della media valle all'unione dei comuni della garfagnana eh anche dal punto di vista istituzionale e qui mi sembra si va anche oltre però c'è vittorio quotidiano san marcello pistoiese lì non me ne occupo comunque diciamo ecco la bagna di lucca tutto quello che a sinistra del teleschermo è tutto media valle e garfaglia quindi borgamozzano quando diciamo la la rotonda di val d'ottavo tanto per essere chiara pescaglia insomma diecimo tutta quella zona lì è un po il confine meridionale no bagna di lucca è confine io sono partito appunto anche da ma anche da semplici monumenti o cippi o lapidi quante volte ti sarà capitato anche a te tornando a caso avvenendo giù no eh che passi davanti lì al a borgamozzano dove ci sono anche gli impianti sportivi venendo giù verso lucca sulla sinistra sotto la la ferrovia c'è un monumento c'è fatto caso eh magari uno non sempre ci fa caso perché è distratto dal traffico lì ecco quello è un luogo della memoria lì si ricorda un un fatto particolare una vicenda importante che è quella di Pietro Pistis eh e io la ricordo appunto parlo di chi è questo Pietro Pistis che cosa avviene nel luglio del 1944 lì in quella zona ecco no no diccelo allora velocemente cos'è successo lì era praticamente a parte che bisognerebbe eh leggerlo sul libro perché è raccontato no no allora fai solo una breve anticipazione è un partigiano senza raccontare tutto sì è un'azione partigiana che eh finisce male ecco diciamo così e questo Pietro Pistis che è un eh sardo eh che partecipa però alla guerra di resistenza a Lucca in una formazione lucchese eh durante l'azione eh viene ucciso in maniera eh eroica appunto per quello è stato poi eh elevato questo eh monumento che si trova lì sulla proprio sulla strada. Va bene adesso poi ne parliamo ancora più nel dettaglio raccontiamo altre cose eh andiamo però a vedere anche le prime pagine dei giornali in edicola questa mattina la rassegna stampa cominciando dall'inserto eccolo intanto vi ricordo al 360 10 38 330 lo sapete potete come sempre intervenire se volete dire la vostra non so eh sui comics se vi sono piaciuti se avete avuto difficoltà a spostarvi anche se mi sembra che il traffico sia più sia più intenso questa mattina che il comics non ci sono più è vero o no Feliciano? Verissimo. Sei arrivato in studio proprio da pochi minuti? Sì perché è avuto. È incredibile ma è così è incredibile. Ieri non ho nei giorni scorsi non ho avuto problemi a spostarmi da da San Pietro a Vico dove abito fino alla zona sud invece stamani sì. Sì vabbè poi è ricominciata a piovere siamo proprio tornati diciamo tra virgolette alla normalità dell'autunno. L'inserto della Nazione Lucca con due titoli principali la rivederci ai comics già si lavora al 2017 poi nell'interno vedremo tutti i prezzi delle case che diminuiscono quindi il mercato immobiliare se avete intenzione in questo momento di fare un buon affare perché si dice no Feliciano che il mercato il mattone no? Sia sempre un buon investimento non so se sei nello stesso avviso. Sì sì sono d'accordo. E quindi vabbè allora datevi da fare tanto vedo ci sono diverse case anche talvolta che vengono messe alle aste giudiziarie non lo so comunque si parla soprattutto dei comics eh il super record venduti ben 271.208 biglietti ora c'è il dato definitivo e preciso dagli artisti solidarietà a pediatria e poveri poi c'è anche il piccolo sogno il sogno realizzato dal piccolo Amedeo pensate questo bimbo una storia veramente struggente malato di tumore da Make a Wish che vedete lo hanno fatto in pratica gli hanno fatto fare un personaggio delle famose guerre stellari no? Poi Genovese il direttore fiero del successo dice ma questa è la mia ultima edizione nuovo direttore Sara Viettina e Caredio grazie a tutti e ieri abbiamo visto anche un ex campione del mondo e che campione del mondo Marco Tardelli poi altri personaggi come Guccini insomma tanti personaggi che in questi giorni sono intervenuti a Lucca Comics e Games. Zero Calcare? Eh? Zero Calcare? Zero Calcare l'attrice no il fumettista. Sì sì ma poi l'attrice quella inglese che tra l'altro ha fatto Star Trek New Generation ancora mi sfugge il nome e poi recentemente ha fatto anche sta facendo anche Westworld che è una nuova serie su Sky. Poi bilancio positivo per gli stendisti ma pesano i Temporary Store soddisfatti dell'organizzazione Panini una crescita incredibile Bandai Namco ha scelto Lucca per il raduno dei suoi top manager insomma tante pagine che giustamente stamani la Nazione Lucca dedica a questa grande manifestazione perché indiscutibilmente lo è e io sono anche contento che il discorso traffico il discorso degli spostamenti sia andato tutto abbastanza bene favorito anche dalle belle giornate di sole non vi siano stati grossi grosse difficoltà per i cittadini che comunque avevano necessità di spostarsi. Mercato immobiliare più case vendute ma giù i prezzi ecco dove conviene acquistare nelle zone più quotate si oscilla tra i 2 e i 3 mila euro al metro quadro è chiaro che se volete andare all'interno della città pagate mi sa un po' di più no Feliciano? Poi si parla anche di sanità, l'Avo, l'associazione volontaria ospedali che ha compiuto 20 anni mentre la Sofider che è una grande industria locale sperimenta una nuova carta igienica su 5 mila abitanti qualcuno potrebbe così una battuta dire ma cosa avrà di speciale questa carta igienica? Andatevi a leggere il prezzo e poi non so se il prezzo sarà più alto questo non lo so. Andiamo anche a Capanno, Risanta Margherita, i sottopassi isolano frazioni i paesi, facciamo come Luca, rifiutiamoli sulla viabilità, la provocazione dei comitati che non si arrendono. Effettivamente il problema di... tu stai a San Pietrabbico quindi anche lì c'è un passaggio a livello proprio nel cuore del paese, eh? Sì. Andrebbe risolto in questi anni 2016 quasi 2017, no? Che dici? Sì, effettivamente bisogna calcolare anche la partenza da casa per... calcolando quando più o meno passerà il treno se si vuole andare in direzione della città perché comunque che si passi da via delle ville a San Cassiano, che si passi dalla via dell'acqua calda... Il treno sempre lo becchi, no? Quindi ormai sapete gli orari immagino anche lì a San Pietrabbico, li conoscete meglio degli ferroviari stessi, vabbè. Sempre a Capanno, riabbandone furbetti dei rifiuti, il comune prepara la task force, l'assessore Francesconi, con le analisi troveremo i responsabili. Voglio ancora segnalarvi, andando invece proprio nella media valle di cui parlavamo prima, gestione suberi, alvie e colloqui, saranno formate 100 persone, nuove mansioni entro fine dicembre, vertice con le istituzioni. E poi una storia curiosa, ma particolare, che arriva da Corfigliano, dal collega Amilcare Paladini, che conoscerai, io Angelo del Fango, da Corfigliano all'Arno Nero, a 50 anni dall'alluvione di Firenze, racconto di Amilcare Paladini, che poi vediamo in questa foto dell'epoca, era il 4 novembre 1966, tu probabilmente non eri ancora nato, eri nato? No. Non eri ancora nato, insomma fu una cosa abbastanza... Ora purtroppo vediamo delle vicende, mi sembra, e ogni riferimento ai terremoti recenti non è casuale, vediamo delle vicende con tutto quello che è di tragico, comunque successe a Firenze, ancora ben più devastanti. Però all'epoca fu una cosa... Va bene, dai, dobbiamo fermarci per la prima pausa pubblicitaria, quando continuiamo a parlare di questo volume, di questa guida ai luoghi della memoria in provincia di Lucca, Mediavalle e Garfagnano, e magari ci racconterai anche qualche altra curiosità, no? Molentieri. E continueremo a sfogliare i giornali, come sempre se volete intervenire, 360 10 38 330, tra poco. 8 e 45, eccoci, ci tornati, no, sono così, perché sto attenendo il volume qui di Feliciano Pechelli, la guida ai luoghi della memoria in provincia di Lucca, Mediavalle e Garfagnano, perché abbiamo trovato a Borgamozzano il cippo dedicato a Pietro Pistis, no? Pietro Pistis, sì, quello di cui si diceva prima, quello di cui si diceva... Eh, lo vedo, sì, ma è proprio sotto la ferrovia, no? Sì, sì, e poi dalla parte di là invece, attraversata la strada, c'è il muro anticarro costruito dai tedeschi nel 1943-44. Sì, perché lì c'è anche tutta la fortificazione... Della linea gotica. Della linea gotica. Sì, infatti sulla guida ho presentato alcuni itinerari che si possono fare a piedi sulla linea gotica. Vabbè, qui vediamo anche il... il Ponte del Diavolo non manca mai, mi sembra, no? Sì, perché ci sono anche alcune informazioni turistiche relative ai luoghi... ai vari centri, ecco, di cui parlo. Quindi su Borgamozzano ho messo anche alcune piccole informazioni turistiche, lo stesso per Bagno di Lucca, Castelnuovo e Barga. Senti, quanto tempo ti c'è voluto... ecco, questa è la cartina forse, non lo so. Sì, questa è una cartina con i vari luoghi... lì sono mappati i vari luoghi della media valle. Poi c'è un'altra più avanti di cartine in cui sono mappati invece i luoghi della Garfagnana. Quelli della Garfagnana, quindi da qui insomma si può facilmente arrivare. Senti, quanto tempo hai impiegato per realizzare questa guida? Eh, ho impiegato tanto anche perché poi chiaramente, ora, io non sono uno storico di professione, ma Gianluca Fulvetti è uno storico dell'Università di Pisa, quindi è come curatore, è una persona molto rigorosa e giustamente rigorosa e quindi non ha lasciato niente né al caso né all'improvvisazione, ma questa guida, come le altre due, quella già uscita sulla Versilia, quella che uscirà a fine mese su Lucca e Piana, hanno un'impostazione scientifica molto accurata. Quando dici impostazione scientifica... Che ogni dato deve essere comunque valutato, visionato, e chiaramente deve essere corroborato da fatti, non deve essere una cosa così inventata e non ci devono essere neanche giudizi di valori, non deve essere una cosa retorica o ideologizzata, ma deve essere una cosa appunto storica. Certamente. Andiamo allora a vedere anche il Tirreno di Lucca. Anche il Tirreno ci parla dei comics. Comics, arrivederci al 2017, come abbiamo ricordato poi anche nei TG di risera, come ha dichiarato lo stesso direttore Renato Genovese, il prossimo anno i comics, le date, saranno dal 1 al 5 novembre. Il 1 novembre, che se non sbaglio, è un mercoledì, quindi si andrà da mercoledì 1 novembre a domenica 5 novembre, quindi altri 5 giorni. Poi adesso voglio chiederti qualcosa, perché so che sei stato un fruitore di questa manifestazione. Comics in numeri in 5 giorni. Ecco, qui ci sono altri numeri però. 1.200 multe, abbiamo visto, sì, anche abbiamo testimonato con le nostre immagini, proprio le soste selvagge, cioè macchine, camper, messi ovunque, no? Sì, super. Quindi, non so, l'avrai notata anche tu, no? Sì, sì. Ma queste 1.200 multe che arriveranno, sono giuste, sono sacrosante? Oppure gente che a un certo punto disperata non sapeva, oppure ci sono tra questi 1.200 anche i soliti furbetti, mi viene da domandare. Ma anche secondo me, perché poi, ora, io ci sono andato domenica, nel primo pomeriggio, abbiamo lasciato la macchina a San Marco, dietro la scuola, e poi abbiamo fatto il pezzo a piedi. È camminato un po' a piedi, tra l'altro la giornata era bellissima. Era una bella giornata, c'era il sole, non c'era la pioggia, quindi alla fine si tratta di camminare quei dieci minuti. Sì, 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 sì. Certo, se vuoi andare proprio nel cuore della manifestazione, la vedi in Piazzale Verdi, come è successo a me sabato sera, macchine, camper, veramente messi ovunque, una cosa impressionante. Il Comune, comunque, questa è una notizia buona per il Comune, incasserà circa 60.000 euro, ma serviranno a rifare le aiuole, quindi sì, perché immagino... Se io posteggio la macchina sull'aiuola... No, no, ho visto anche dei camper. Poi, i bar lavorano? Non tutti, lo dicono gli scontrini. Gli esercenti e il fisco. Poi c'è stato questo scontro di Lemucchi con Garzella, perché Garzella aveva detto diamo la metà dell'incasso dei comics ai terremotati del centro Italia e qualcuno... Io non devo e non voglio prendere posizione, qualcuno però si è inalberato. Non so se lo vuol fare Feliciano Pechelli. Io credo che... Matteo lo conosco da tanti anni, credo che se vuole perseguire i suoi legittimi obiettivi politici... Diciamo anche le sue ambizioni, le sue aspirazioni. Che mi sembra molto ambizioso. Sì, sì, ma sono legittime, però lo può fare tranquillamente... Perché è uno che si impegna molto, questo è indiscutibile. Per carità, però secondo me, insomma, glielo dico da amico, può arrivare a questi obiettivi, se veramente ci crede, anche senza ricorrere a queste genialate che le lasciano un po' di tempo che trovano. Hai detto la tua. Comics, le storie. Il gioco da tavola diventa ricerca universitaria. Collaborazione tra Teneo di Reading e Ludo Lega per studiare i comportamenti dei vari partecipanti. Poi voglio segnalarvi, se mi riesce qui a girare il giornale, allora, ferrovie, lavoro in stallo sulla linea Pistoia-Lucca. Prima parlavamo dei sottopassi ferroviari, no? Adesso a proposito dei sottopassi, ospichiamo anche in vista delle prossime manifestazioni che ci sono a Lucca. L'imminente, l'imminente, mi auguro, oggi siamo al 2 novembre, eh? L'imminente, continua? Via Ingrillini. Apertura del sottopasso di Via Ingrillini. Ma ci siamo, secondo te? Speriamo. Speriamo. Mi sembra che i lavori stanno andando avanti. I tempi ci dissero entro la fine dell'anno, quindi entro Natale. Io mi auguro davvero di sì, perché io credo dovrebbe respiro un po' tutta questa zona sud, no? Sì, sì. Secondo me sì, perché poi non ce ne siamo neanche resi conto, sono quasi due anni che è chiuso e di conseguenza, però, parte del traffico si è spostato sul Viale Europa. Poi andiamo alla Piana di Lucca, siti dismessi da recuperare, le strategie del Comune. Il regolamento urbanistico punta a recuperare l'esistente senza usare suola, a porcare i casi dell'ex piscina Masata, della fornace pellegrina e dell'ex Corallo. Poi c'è stata la notte di Halloween a Borgo a Mozzano, in 20.000 a Borgo per la notte delle zucche, si conferma un successo, la Halloween Celebration nel cuore della valle, premiato un programma denso di appuntamenti dal sabato al Clou del 31. Più comics o più Halloween? No, no, parlo con Feliciano Pecheli. Più comics o più Halloween? Comics. Halloween? Non ti entusiasma. Non mi entusiasma. Cos'hai visto di particolare a questi comics 2016? Cos'è che ti rimane nella memoria, visto in questo caso altri luoghi della memoria? La gioia, la festa. Sì, che sono la stragrande maggioranza veramente tutti giovani, è molto giovane. Il coinvolgimento. Io ci ho portato al bimbo di 7 anni, che veramente anche lui si era vestito da Darth Fener. Da? Darth Fener, Guerre Stellari. Ah, sì, 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 sì. Il Lord in Nero, diciamo. Bravissimo. Ci fai vedere questo Darth Fener, no? Ce lo fai vedere Pucci? Ce lo fai vedere? Ce lo fa vedere, o no? Ce lo fa vedere. E anche lui si è divertito tantissimo. È proprio la gioia, l'emozione, il coinvolgimento. È bello, è bella in sé, ecco, come manifestazione. Una manifestazione che veramente sprigiona gioia da tutti i pori. Poi dobbiamo dire una cosa, anche quest'anno abbiamo visto 270 mila, quanti erano i biglietti. Probabilmente poi il volume delle persone è stato anche superiore, no? Sì, perché tante persone... È stato anche superiore, ecco. Quindi non lo so, non so se possiamo quantificarlo, ma... Non lo so, ma io credo che tantissime persone sono andate in città, anche semplicemente sulle mura, a fare una passeggiata, in quei giorni travestendosi, senza acquistare il biglietto, perché chiaramente non entravano negli stand. Quindi dire che in cinque giorni su Lucca possono aver orbitato 270 mila, 350, 400 mila persone, forse non si esagera neanche. No, no, assolutamente, assolutamente. Dobbiamo dire, ora lo possiamo dire, non l'abbiamo fatto prima, perché anche un po' per scaramanzia, ora che la manifestazione è finita, senza che ci fosse, al di là delle soste selvagge, senza che ci fosse il minimo incidente, il minimo... Intoppo. No, no, ma dico, due persone hanno fatto schiaffi. No, poteva starci, non lo so se poi magari è successo o meno, però non risulta che ci sia stata nessuna situazione particolarmente grave, no? Sì, sì, io devo dire... Questo significa che è davvero una grande festa questo. Sì, 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 poi ho letto stamattina uno status dell'assessore Raspini su Facebook, in cui si complementava con tutti i volontari, tutte le persone che hanno lavorato alla manifestazione. Sì, sì, è vero. È uno status veramente bello quello che ha scritto Raspini, perché davvero rende l'idea di una manifestazione che comunque va avanti, a prescindere dall'amministrazione, a prescindere da chi ci lavora. Ormai ha un suo binario ben preciso su cui correre. Sì, sì. Lo vediamo? Vediamo questo personaggio? Era vestito così il tuo figlio, sì? Precisamente. Ora avrete capito di chi parlavamo, il cattivo di Guerre Stellari, no? Sì, sì, era vero. Che nasce come buono, poi diventa cattivo, no? Questo l'abbiamo visto un po' in tutto. Ormai Guerre Stellari, se non sbaglio, è al settimo ottavo film, no? Al settimo, sì. Al settimo, se non sbaglio. Quindi poi hanno fatto tutto anche il remake di quello che era stato all'inizio, no? Così come ormai fa. Andiamo invece, qui non sono Guerre Stellari, sono altri problemi. Andiamo alla cronaca del Tirreno di Viareggio, Nautica, il salone di Fort Lauderleide, i grandi cantieri a caccia di armatori a stelle strisce. Quello americano resta il principale mercato per l'industria italiana dei mega yacht, ma non tutti i marchi del comparto saranno presenti all'appuntamento. È chiaro che, insomma, la nautica, la cantieristica navale rimane uno degli argomenti trainanti, no? Dell'economia viareggina. Poi, sempre da Viareggio, colleziona espulsioni, ma è sempre qui. Lo straniero che ha streggiato un uomo nei giorni scorsi, aggredì e picchiò una ragazza nel 2008, Eh, vabbè, ma allora perché non si fa tornare da dove è venuto questo personaggio? Non l'abbiamo capito. È sempre qui e continua a fare delle cose, in questo caso, poco simpatiche. La campagna, in piena passeggiata, le zone più malconce, sono quelle più famose amate dai viareggini e turisti. Bel vedere, non solo pavimentazione K.O., ma anche le aiuole. In base dalla sabbia, che nessuno rimuove da mesi, la pista ciclabile dai lavori del 2011 non è stata asfaltata. Beh, qui poi, se si vuole fare, invece, parlo di viareggio, al di là della nautica, anche del turismo, eh, l'argomento principale. Qui si parla ancora di mercato immobiliare, aste in tribunale, case vicine al mare, a prezzi scontati, a viareggio e marina, appartamenti da 200 mila euro in giù. Quindi, insomma, neanche prezzi poi esorbitanti. Verso l'interno si trovano immobili anche sotto i 100 mila euro. Quindi, insomma, se uno ha la disponibilità, allora, facciamo un discorso. Fra tenere, ora non lo so, non voglio fare i conti in tasca a chi ci segue da casa, però fra tenere, non lo so, faccio una cifra, se uno ha la disponibilità, fra tenere 100 mila euro in banca e investire in un immobile, Feliciano Becchelli, cosa farebbe? Ma, allora, purtroppo, non lo so. Dico semplicemente che queste cifre sono un po' il risultato di questi lunghi anni di crisi. Certo, una volta un appartamento sotto i 200 mila euro a Via Reggio e dintorni era fantascienza, da Dark Fener. Poi se viene Dark Fener dice, me lo date a quanto me lo dà? No, no, prendilo gratis. Sì, purtroppo il punto è che c'è chi ha bisogno di vendere e c'è chi non ha la possibilità di acquistare. È un po' la legge della domanda e dell'offerta, che abbiamo studiato in economia. Certo. Quindi, va beh, invece qui si fa un po' di Amarcord, nel pezzo, in questo bel paginone curato, possiamo dirlo, dal nostro eroe l'epore, forti e uniti come 25 anni fa. Riecco gli eroi. Si parla del Via Reggio di Mendella, di quell'epoca lì, tra... ci sono anche dei personaggi. Questo signore, che non so se era più giovane allora o più ora, è Spalletti, che guardate, era vecchio da giovane ed è... ed è giovane da vecchio, no? Mi permetto di dire? No, no, perché insomma, guardate, questo era Spalletti, Quando giocava. Poi ci sono... è vero o no? Poi c'è Bisoli, attuale allenatore del Vicenza, quindi bel personaggio, questa è la foto del Via Reggio dell'epoca, il Via Reggio di Mendella che si rò la Serie C1, si è ritrovato, insomma, in un ristorante del posto, che emozione. Poi c'è Cinquini, che era il giovane direttore sportivo dell'epoca, Enzo Riccomini, nota allenatore che ricordiamo. Poi attenzione, Franco Baldini, Franco Baldini, anche lui. Quindi avere un bel... questa è la foto della cena, un bel Amarcord. Poi vi segnalo anche da Camaiore e Massarosa, in 10.000 alla fiera, si parla della fiera di Onissanti che prosegue anche oggi, ieri bel tempo, oggi un po' meno, traffico in tilt fin dal primo mattino, poi da Pietrasanta, via libera al trasloco alla stazione del comando dei vigili, salta invece l'intesa tra comune e rete ferroviaria italiana per la realizzazione di uffici e negozi e l'uso dei parcheggi. Poi andiamo a Seravezza dove ci si chiede pala palio o pala sport, il comune deve scegliere. L'impianto da 1.500 posti che era stato immaginato per l'area ex Olimpia potrebbe essere realizzato in via Ciocche ma costerebbe un milione di euro. Ecco, ho finito anche con la cronaca dalla Versilia. Senti, quando appena rientriamo torniamo naturalmente sulla guida e ci devi raccontare altri due o tre luoghi della memoria, così ora non andiamo a scoprire tutto perché se scopriamo tutto stamani e poi visto che ho 30 secondi allora andrei subito prima di andare in pubblicità anche sul nostro sito per farvi vedere www.notv.it come sempre potete andare a consultarlo Chiusura in grande stile per Luca Comics and Games 2016 poi l'appuntamento dal primo al 5 novembre 2017 come annunciato ai nostri microfoni dal direttore Renato Genovese ma attenzione un bel appuntamento per tutti gli appassionati di sport e di motore in particolare perché questa sera alle 23 torna Rombo di Motore guardate un po' chi ci sarà ospite dei nostri studi ebbene sì proprio lui Paolo Andreucci che quindi potrà raccontarci dell'epilogo del campionato italiano 2016 che purtroppo l'ha visto battuto di pochissimo da basso ma sicuramente Paolo rilancerà la sfida ma soprattutto in studio ci sarà anche Valerio Barsella della sua partecipazione il 17 e 18 dicembre al rally del ciocchetto alla 25esima edizione le nozze d'argento insomma Paolo Andreucci che è il simbolo naturalmente del realismo italiano e di conseguenza anche del realismo lucchese e nostrano non poteva mancare ad un evento ad una ricorrenza così particolare Paolo Andreucci stasera ore 23 a Rombo di Motore naturalmente noi gli chiederemo anche se sono vere le voci che lo vogliono lontano dalla Peugeot e vicino ad altre case una a caso la Hyundai torniamo tra poco ancora per parlare dei luoghi della memoria Medavalle e Garfagnana tra antifascismo guerra e resistenza quell'epoca ormai così lontana ma ancora insomma presente in tutti noi a tra poco 9.02 ancora in diretta dagli studi del TGNOI per questa puntata di Buongiorno con noi di mercoledì 2 novembre 2016 siamo sempre in compagnia di Feliciano Becchelli per parlare di questa guida ai luoghi della memoria Medavalle e Garfagnana tra antifascismo guerra e resistenza vediamo ancora la copertina credo Gian Piero Pucci che sta in regia questa mattina però andiamo Feliciano avevamo detto che andavamo insomma a presentare un po' qualche pagina particolare sono tutte particolari e belle di questa guida in questo caso siamo a pagina 39 il sentiero della libertà siamo se non sbaglio al piglionico al piglionico noi ce ne siamo occupati ci ne occupiamo da tanti anni anche di quella che è la manifestazione che ogni anno si tiene sì qui è un sentiero da fare a piedi proprio nell'ottica della guida ho previsto un sentiero escursionistico comunque adatto a tutti perché è molto semplice si parte dal piglioni che si arriva sul monte Rovaio che è il monte dove avvenne anche la battaglia del 29 agosto del 1944 in cui morì Leandro Puccetti in cui morirono altri componenti del gruppo Valanga del gruppo Valanga che tutti gli anni vengono ricordati e in questo passaggio appunto si ripercorre tutto il sentiero si descrive proprio passo passo ringrazio tra l'altro gli amici del CAI di Castelnuovo che mi hanno dato una mano sull'elaborazione di questo capitolo del libro senza fare retorica come dicevi prima che l'obiettivo è stato quello di fare una cosa dove non ci fosse retorica dove non ci fosse da piangersi addosso però ogni tanto leggere queste targhe che ci sono sul nostro territorio leggerle e farci 30 secondi di riflessione farebbe bene credo un po' a tutti noi io salto e vado a pagina invece 51 dove invece troviamo il percorso dell'internamento ebraico vedo questa foto qua in basso della fortezza di Montalfonso vuoi brevemente raccontare che invece qui parliamo di una vicenda davvero tragica per diverse decine di persone sì a Castelnuovo di Garfagnana negli anni dopo il 1941 e fino al 1943 furono internati circa 70 ebrei persone che vivevano in Garfagnana no furono deportate praticamente furono come confinate lì erano state confinate internate era un internamento libero però dovevano stare lì e alcune furono appunto alloggiate a Montalfonso alla fortezza di Montalfonso altre furono ospitate in altre famiglie nel centro di Castelnuovo finché nel dicembre del 1943 arrivò l'ordine di presentarsi la mattina successiva a tutti in piazza tolte due famiglie che presero un'altra decisione e non si presentarono saggiamente saggiamente gli altri però non lo sapevano non potevano sapere a cosa sarebbero andati incontro quindi col seno di poi si dice saggiamente però all'epoca non erano erano tempi in cui per fortuna noi non l'abbiamo vissuti ma dove anche oggi fidarsi bene non fidarsi talvolta è meglio ma all'epoca immagino che però vabbè queste persone diciamo in buona fede andarono in piazza e furono portate a Bagni di Lucca perché a Bagni di Lucca vediamo infatti questa foto si ai bagni caldi quindi dove ci sono le terri questa questa che vediamo c'era un campo di concentramento non un campo di concentramento non un lager inteso in senso dei campi di sterminio come abbiamo nella mente adesso anche tramite film le testimonianze però era un campo di concentramento vero e proprio dove venivano deportati il gestito dai tedeschi anche questo sì sì certamente e poi da lì furono il 30 di gennaio del 1944 tutte gli ebrei che erano si trovavano sul Castelnuovo e che erano stati deportati nel frattempo a Bagni di Lucca furono poi deportati ad Auschwitz affrontarono l'ultimo viaggio perché mi dicevi non risulta che nessuno di loro sia tornato no e beh insomma però vedi io credo che queste pubblicazioni che fate insomma che cura Gianluca Fulvetti che poi a cui tu gli altri amici avete lavorato e state lavorando abbiano una loro peculiarità quella di fare in modo che non si perda davvero la memoria certo la memoria di quello che è stato ormai 70 anni fa e più ma è bene certe cose non dimenticarle mai anche nelle nuove generazioni che pure di queste cose ne sentono parlare ma va beh andiamo a vedere invece i quotidiani nazionali questa mattina cominciando dal Corriere della Sera e chiaramente qui caro Feliciano dobbiamo affrontare l'argomento di questo di questo io non ho aggettivi però di questo dico semplicemente di questo di questo terremoto di questi terremoti che davvero non avevamo mai visto prima non avevamo mai visto prima questo mi sento di dirlo allora il Corriere della Sera nuova forte scossa il grido dei sindaci qui crolla tutto in tre giorni 1120 sì qui si parla di scosse si parla di altri eventi Renzi tra gli sfollati poi si parla anche di politica estera alla riconquista di Mosul vediamo questo uomo con due bambini bambine credo e poi svolta del Papa aprire i profughi ma con prudenza quindi adesso anche il Santo Padre mi sembra stia un po' frenando su quella che altrimenti mi permetto di dire questa è una valutazione personale rischia anche di diventare un'invasione siamo 100 scienziate cercate noi 8 volte su 10 i media si rivolgono esperti maschi in un sito le migliori studiose qui sai l'altra settimana abbiamo parlato di fuga di cervelli uno potrebbe dire beh andassero via certi cervelli e ne rimanessero altri il problema è che spesso dall'Italia vanno via quelli buoni i cervelli vediamo la Repubblica verso il centro di Mosul vediamo questo cararmato per l'ultima battaglia poi ricordo di Tina Anselmi una madre della nostra Repubblica è morta a 89 anni sì 89 anni no perché poi evidenzio con l'arancione sul blu così dopo non ci leggo no? controlli in 200.000 case terremoto da esaminare migliaia di scuole sindaci lavoroprazie a rallenta gli interventi ricostruzione al prefetto tronca le verifiche sulle ditte le aziende vogliamo riaprire attenzione perché fra sei giorni sono le elezioni anche negli Stati Uniti d'America ora da noi se ne parla poco in questi ultimi giorni perché purtroppo ci sono queste vicende drammatiche da seguire comunque si chiama inchiesta penale il nuovo incubo di Hillary Clinton e attenzione perché Trump in alcuni stati ha rimontato ha rimontato e addirittura ha sorpassato quindi probabilmente le elezioni sono molto più aperte di quanto si potesse pensare fino a pochi giorni fa poi quotidiano nazionale la nazione anziani Quirinale in campo stoppa le truffe Mattarella aderisce alla campagna appunto del quotidiano nazionale inchiesta meritoria è un crimine odioso che ferisce nell'animo le persone più deboli poi qui ci sono abbiamo visto in questi giorni tante immagini vediamo tante foto che veramente sono sconvolgenti sfida all'Europa terremoto intervista del Rio Bruxelles restauri la cattedrale di Norcia simbolo dell'Unione Europea questa cattedrale che se non sbaglio era questa qui poi quello che impressiona è quando comparano la foto di com'era fino a pochi giorni fa e di quello che adesso non c'è più niente dicevo prima un terremoto mi hai visto tu sei un pochino più giovane di me io di terremoti ormai insomma ne ho visti tanti mi viene in mente da quello del 68 nel Belice 76 Friuli 80 Erpinia e via dicendo però obiettivamente vedere le montagne spaccate vedere i fiumi sono entrati hanno preso il posto delle strade vedere l'apertura della terra in questo modo a me viene da pensare che quel 65 lì tra l'altro non lo so perché inizialmente era uscito un 7-1 poi indipendentemente da questo il problema è che ci sono decine di migliaia spero dire centinaia di migliaia di persone che veramente hanno perso tutto questo è il problema indipendentemente da che idea ti sei fatto considerando e concludo che purtroppo anche noi siamo lo sappiamo soprattutto la Garfagnana e la Media Valle in una zona ad elevato rischio sismico dico subito non è Pucci me la prepari la cartina rischio sismico Italia così quella con la colorazione anche dal rosso a rosa così facciamo capire anche a chi ci segue da casa che noi siamo una zona sismica non tra le più ad alto rischio ma insomma siamo in una zona ad elevato rischio Feliciano io non sono un sismologo quindi non voglio fare non vorrei entrare in discorsi che sono più grandi di me di cui non ho competenza a parlare certo da quello che ho letto anche gli ultimi eventi di questi giorni ho letto che insomma erano abbastanza prevedibili cioè che lo sciame sismico continuasse e continuasse in maniera anche abbastanza abbastanza forte purtroppo siamo sulla dorsale appenninica siamo una zona a rischio sismico elevato e tante tante case tante costruzioni sono sono vecchie sono inadeguate quindi sarebbe il caso di fare prevenzione questo anche il governo centrale lo stato comunque indipendentemente da chi governa dovrebbe pensare che siccome quasi tutta l'Italia è a rischio sismico soprattutto quello che è lo scheletro che si tiene insieme in Italia che è proprio l'appennino eccola qua Pucci è veramente allora come vedete questa è la cartina vedete che in pratica dalla Calabria dallo stretto di Messina risalendo su quella che vedete proprio in viola in rosso sono le zone dell'Aquila dell'Italia centrale dove adesso è venuto il terremoto vedete poi spostando questa dorsale leggermente a sinistra noi siamo in quella zona un pochino meno col colore un pochino meno accesi però insomma rimaniamo in una zona poi vedete ci sono zone assolutamente allora se volete stare tranquilli col terremoto ve l'ho già detto altre volte andate in Sardegna andate in Sardegna un'isola è staccata da questo movimento da queste placche che con l'Africa che spinge verso nord-est tra milioni di anni qui parliamo di aree geologiche il mare Adriatico non ci sarà più non ci sarà più il bacino del Mediterraneo ma questo parliamo di milioni quindi tranquilli non ci sarà più nessuno di noi se si vede bene anche la cartina di prima la dorsale appenninica che attraversa l'Italia da nord a sud infatti voglio andare sul sito del Corriere della Sera perché adesso si comincia davvero a rievocare dopo domani sono 50 anni quindi insomma un avvenimento come l'alluvione di Firenze Kennedy e gli angeli del fango l'alluvione di Firenze del 66 a 50 anni dall'inondazione del capoluogo toscano le voci e ricordi dei protagonisti e gli scatti dell'epoca voglio dirvi che tra gli angeli del fango non so quanti al di là dell'amico Amilcare Paladini che qualora fosse all'ascolto da Gorfigliano saluto tra gli angeli del fango c'era anche il nostro carissimo arcivescovo Monsignore Italo Castellani che pure salutiamo anche lui eh non lo sapevi Feliciano anche lui all'epoca fu tra gli angeli del fango cioè tutti questi giovani che andarono a Firenze che ci furono dei danni anche a livello di beni artistici perché si parla d'ora ma anche allora poi a proposito del terremoto tornando sul sito del Correa della Sera corsa per dare un tetto agli sfollati vita nei paesi fantasma perché sì lì ci sono dei paesi proprio che ormai sono abbandonati alcuni completamente distrutti perché poi anche quelle poche case che vedete in piedi in realtà non sono agibili quindi il ritorno dei container e poi attenzione perché io sono cresciuto siccome questi argomenti ormai lo sanno chi mi segue che mi appassiona sono cresciuto vivendo così sulla faglia su questa mitica faglia di Santa Andrea in California che dice quel pezzo della California si staccherà entrerà l'oceano questa faglia lunga chilometri 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 guardate quello che è successo in questa zona sul nostro appennino guardate questa foto e qui veramente la montagna si è aperta la montagna si è aperta poi il sismologo americano ecco a proposito io non l'avevo ancora visto questo noi pronti per il Big One il Big One sarebbe il terremoto catastrofico che dovrebbe spaccare in due quella parte della California che dicono non dubitiamo se arriverà dobbiamo soltanto capire quando arriverà dice il sismologo americano noi pronti per il Big One costruiamo con regole severe beh poi quando arriva il Big One io non lo so quali sono le c'è lì sono terremoti credo nono grado della scala Richter talmente distruttivi in maniera assoluta che lì veramente non lo so se serve anche però su terremoti insomma forti ma di magnitudo più contenuta la prevenzione potrebbe servire perché sarebbe da fare una bella indagine anche nella nostra zona e capire quante case eh casa canta quante case sono veramente sicure eh se poi di sicurezza si può parlare quante sono veramente sicure eh è vero è vero quante le sono allora perché adesso che adesso che ancora non è successo nulla da noi non si fa prevenzione da noi come perché si aspetta sempre che crolli tutto non lo so allora Pucci è scatenato l'ho scatenato poi dobbiamo andare in pubblicità Gian Piero guarda cosa ci ha preparato lasciala anche a me se puoi perché da qui e là poi non la vedo queste sono le faglie vedi sono le faglie che più ci interessano cioè quella del Mugello tra l'altro anche ieri nella zona di Castiglione di Castelfiorentino quella zona lì c'è stato un 3.1 poi un 2.8 e invece quelle due che vedete a sinistra Garfagnana 25 gennaio 2013 4.8 poi giugno 21 giugno 2013 ci fu il 5.1 5.2 e tutto quel periodo lì che ebbe come epicentro la zona di Minucciano proprio lì la zona del Pisanino e poi la faglia della Lunigiana queste sono le faglie tanto per essere chiari che il 7 settembre del 1920 causarono quello che viene ricordato come il grande terremoto ci furono dei morti alcuni paesi da noi da noi Villa Collemandina in Lunigiana Fivizzano tra l'altro ci seguono anche gli amici della Lunigiana che saluto alcuni paesi furono distrutti in altri paesi successi un po' meno quindi insomma anche noi non è che possiamo stare tranquillissimi e quindi dico sempre prevenzione 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 lo Stato dovrebbe aiutare c'è chi poi lo fa da solo molte delle nostre case avrai notato viaggiando molto sul territorio hanno queste leghe che servono a tenerle un po' insieme però insomma va bene dai andiamo in pubblicità quando torniamo parliamo di sport e poi niente parliamo anche di questa guida su Lucca che state preparando giusto? la stanno preparando Luciano Luciani e Armando Sestani va bene a tra poco 9 e 18 ultimo spazio di questa puntata di Buongiorno con noi con Feliciano Bechelli Feliciano siamo andati a pagina 70 della tua guida sui luoghi della memoria di Mediavalle Garfagnana perché c'è il capitolo Piazza al Serchio ma non tanto il capoluogo Piazza al Serchio quanto giropagina Cogna che è una frazione di Piazza al Serchio una frazione molto carina molto bellina nella valle che da Piazza al Serchio quelle zone le conosco bene conduce verso verso Sillano poi da Sillano si va al passo di Pratarena sono posti manca a dirlo come tutti i posti lassù magnifici perché questa particolarità di Cogna? parlo anche di Piazza al Serchio perché subì un pesante bombardamento il 29 giugno del 44 quindi racconto anche di quel bombardamento a Cogna si sviluppa un episodio il primo di febbraio del 45 dopo uno scontro a fuoco praticamente vengono uccisi per rappresaglia a sei civili questo da chi? dai tedeschi? no dalla Monterosa dagli alpini della Monterosa erano italiani e tra questi fucilati c'è anche Adriano Tardelli detto Baionetta vediamo questa foto con tanto di paffoni come forse andavano anche all'epoca no? che era un personaggio era veramente un bel personaggio era del posto lui? no lui era originario di Careggine ah vabbè insomma della zona via è Tardelli infatti come il grande calciatore Marco che ieri era Luca Comics anche lui originario di Capanna e di Careggine ce ne sono tanti è un cognome tipicamente Garfagnino della zona che lui era una persona che aveva aiutato tra l'altro molti antifascisti o ebrei o comunque persone che volevano superare il fronte e mettersi in salvo ex prigionieri britannici li aiutava a superare il fronte poi a un certo punto viene arrestato e quando il generale Carloni della divisione Monterosa decide la rappresaglia tra gli uccisi lui è tra le sei persone che vengono uccisi è questo monumento che si trova proprio a Cogna si trova proprio a Cogna lo ricorda ricorda i sei uccisi ricorda i sei tra i quali Adriano Tardelli detto Baionetta detto Baionetta va bene andiamo a vedere anche i quotidiani sportivi caro Feliciano perché tu insomma sei sportivo sei segui la lucchese quindi però cominciamo con la gazzetta aerosport perché qui il nostro amico Fulvetti è preoccupato l'Inter non solo ha mandato via Frank De Boer ma non ha ancora scelto il nuovo allenatore mi sembra che anche lì ci sia c'è stata molta confusione in estate e mi pare che la confusione regni sovrano comunque cuore Napoli Juve a te Super Amsic pare in Turchia beh sì un buon pareggio il Napoli era andato sotto stasera tocca la Juve contro il Lione subito Marchisio la Juve tra l'altro penso che se vince stasera è già qualificata agli ottavi poi ecco qua l'Inter il nuovo allenatore dell'Inter Piolin Pol ma Hiddink esonerato De Boer accordo con l'ex laziale i cinesi però spingono per un tecnico straniero allora adesso mi viene da ridere per non piangere caro Fulvio che mi sta ascoltando da casa con la febbre a 38 che spero ti sia scesa perché si è stato preso De Boer che mi faceva soffrire tutte le volte e lui poverino si impegnava a parlare in italiano ma era una sofferenza per lui credo e per noi che l'ascoltavamo e adesso si vuole prendere Hiddink per l'amor di Dio allenatore quotato finché volete e risaliamo punte da capo secondo me allora io dico ma anche questi cinesi vabbè dai non dico altro Quest Sport bello questo titolo mi piace non è un Inter per vecchi parafrasando il celebre film non è un paese per vecchi Stefano Vecchi che è l'allenatore della primavera che comunque andrà in panchina domani sera a Southampton e poi probabilmente anche col Crotone domenica Stefano Pioli e Diego Simeone ma siccome il Ciolo Simeone fino almeno al prossimo anno non arriva io credo che l'Inter dovrebbe trovare una soluzione no? Feliciano a breve senza andare a cercare nuovi scienziati gente che viene dal di fuori dell'Italia che deve ambientarsi deve imparare la lingua non è che il campionato nel frattempo lo fermano perché l'Inter deve risolvere i suoi problemi il campionato va avanti e l'Inter è clamorosamente in una posizione che veramente a noi interisti fa tanta tanta rabbia Allegri ora veramente noi interisti siamo stanchi e ce la prendiamo con la società di ora e quella di prima che pure continuano a parlare sarebbe bene parlassero meno e facessero qualcosa di serio e di definitivo perché l'Inter non merita gli interisti soprattutto non meritano tutto questo Allegri sogna gli ottavi già stasera Amsic gol Napoli pari d'oro andiamo alla nostra Lucchese caro Feliciano Terrani tiene in ansia Galderisi Lucchese che ha giocato una bellissima partita a Piacenza con l'unico neo non indifferente però di non aver segnato meritava ampiamente la vittoria Terrani si è fatto male il dottor Tambellini dice accusato un'elongazione muscolare per cui siamo a martedì ma mercoledì già dico che secondo me contro la Viterbese scordiamoci di Terrani lo monitoriamo dice il dottor Tambellini giorno per giorno e solo verso la fine della settimana sapremo se potrà essere o no della partita casalinga contro la Viterbese domenica secondo me no perché non vale la pena rischiare poi un infortunio più grave che il campionato è lungo dopo la Viterbese c'è anche Renate in casa è un novembre caro Feliciano che sfruttarlo in modo adeguato con tre partite in casa e la trasserta sul campo della non irresistibile Racing Club Roma la può lanciare questa Lucchese verso posizioni un po' più nobili ma senti allora sicuramente l'organico a disposizione di Galderisi quest'anno è un organico adeguato a fare un campionato dignitoso decente sicuramente può puntare tranquillamente al playoff preoccupa di più invece dal punto di vista societario perché mi sembra qui ti volevo qui ti volevo qui ti volevo no no e qui ti volevo nel senso che il presidente nell'ultima intervista della partita giocata in casa a domanda del collega mi sembra Fabrizio Vincenti gli stipendi sono stati pagati sì i contributi credo caro presidente sono risposte un po' così queste credo presidente se no siamo un po' come i cinesi all'inter perché altro è venuto fuori che in realtà non sono stati pagati in tempo i contributi poi dopo arrivano i messaggi però accidenti avete aspettato le 9.25 allora ecco no vabbè però è una domanda interessante si trova il libro nelle librerie di Lucca parliamo di Mediavalle Garfagnana trantifascismo guerra e resistenza guida i luoghi della memoria in provincia di Lucca a cura di Gianluca Fulvetti di Feliciano Becchelli si trova? sì sì sono sicuramente alla UBIC perché di quello sono sicuro che si trova ma insomma in genere anche tutte le altre librerie si dovrebbe trovare credo che stia arrivando se non è arrivato nei giorni scorsi è semplicemente per un discorso di quindi lo troverete dai prossimamente lo troverete poi dice questo nostro telespettatore ringrazia per questa informazione Tardelli il calciatore cioè Marco dice di essere di Pisa anche se è nato a Careggi vabbè Tardelli può dire quel che vuole è nato a capanne di Careggi nel 1954 Pucci ma che mi hai preparato? che mi hai fatto vedere? mi hai quasi è vero sono le 9.26 ormai mi sono svegliato da oltre tre ore però che mi stai facendo vedere? la Clinton e Trump? perché Pucci mi fai vedere la Clinton e Trump? non mi ha capito ah per lo stesso colore dei capelli? perché hanno lo stesso colore dei capelli? no Trump è più sul rosso la Clinton un po' sul biondo le chiavi del mondo sono affidate signore a una di queste due persone fate le vostre considerazioni Feliciano non ne facciamo altre no allora velocemente perché dobbiamo chiudere no Trump no Trump no Trump no party era la pubblicità però no Trump no Trump va bene dai magari ci torniamo ci torniamo nei prossimi giorni perché lo trattiamo nel vivo io ho una mia una mia convinzione che alla fine poi che sia Trump come dice lui no Trump o che sia Hillary Clinton c'è sempre qualcuno sopra di loro che decide i destini del mondo e con questa frase ad effetto ringrazio Feliciano perché da qui Feliciano perché lì si dissocia no 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 assolutamente è vero è vero no è vero non lo so però è una mia idea ti ringrazio Feliciano grazie a voi prossimamente quella di Lucca no? prossimamente quella di Lucca scritta da Luciano Luciani e Armando Sestani e curata anche quella ovviamente da Gianluca Fulvetti rimettiti Gianluca Fulvetti non mi andare in crisi come la nostra Inter va bene ringraziamo Gian Piero Pucci tra poco la prima edizione del TG9 buongiorno con noi torna naturalmente domattina alle 8 e 30 in diretta qui ci sarà al mio posto il collega Lorenzo Bertolucci noi ci rivediamo martedì e mercoledì a buongiorno con noi vi stiamo preparando ve lo dico già delle puntate da leccarsi i baffi dai diciamo così da leccarsi i baffi come tu hai baffi anche baffi e pizzetto va bene dai appuntamento a domattina alle 8 e 30 grazie buona giornata ciao a tutti i baffi anche ciao a tutti i baffi anche